Ma com'è? Eh, vedi? Stai chiuso. Tengo un sito, si. Perfetto. Eh, ma poi lo si chiude di nuovo. Ah, intanto non c'è un cazzo. Per non usare il plug-in 15.000 kg. Se non ti piace l'intro, se no lo sistemiamo. Eh? Secondo me va bene. Eh? Buono. Io direi di fare una posetta. Eh, grazie.